Bentornati su MyFootballGersy. Continuiamo con le maglie retro. Questa è la maglia dell'Arsenal, l'avrete riconosciuta, per la stagione 2002-2003, la maglia di Vierat. La maglia di Vierat Maglia fantastica. È una delle maglie che ricordo con più favore. È costellata di grandissimi giocatori come questo. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Ditemi voi cosa ne pensate. Il costo lo vedete qui sopra? Estremamente basso, estremamente vantaggioso. Per portare a casa una maglia così è da fare subito. In descrizione, qui sotto, trovate i riferimenti per ordinare la maglia. Mi raccomando, trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi ancora più conveniente. Ora vi lascio alla parte finale. Prima però lasciate un grande like e soprattutto iscrivetevi al canale. Vi ricordo che questo è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto. Alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan.